La compagnia di attori inglesi Teatrino è stata ospite dell'Istituto Comprensivo Monsignor e Gagliano di Altavilla Milicia. La compagnia fa capo all'ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational. I quattro giovani attori inglesi Jack, Ben, Polly e Carrie Lee hanno rappresentato per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado tre sketch interattivi e didattici con canzoni e competizione in lingua inglese, seguiti da workshop che mirano a veicolare strutture e funzioni linguistiche e apporre l'enfasi sulle competenze di speaking e liste lingue. L'ACLE, spiega il professore Di Franco, referente per lingue straniere, rivolge una serie di attività a docenti e a studenti coinvolgendo emotivamente gli interlocutori attraverso la musica e il movimento. In particolare, molto efficace è il metodo da loro usato di insegnare a lingua inglese attraverso la strategia teatrale. L'esperienza teatrale in lingua inglese offre agli alunni un'opportunità formativa e rivela la sua grande valenza educativa e didattica. L'ACLE 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 L'ACLE